Sprena 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 Certo, probabilmente non siamo stati capaci a reclamizzare nella maniera giusta il nostro territorio, che è meraviglioso. Cercheremo, nei limiti di quello che la Camera riesce a fare, a mettere in modo un volano anche per questo. Quali le sue priorità da domani? Intanto rendere la Camera di Commercio Chiedi Pescara unico strumento di lavoro, togliendo divisioni, risistemando le cose per creare un vero volano col personale, con tutto. Dobbiamo cercare di dare quelle idee e tutte quelle attività che possiamo fare affinché rendiamo il nostro territorio più attrattivo a livello turistico, a livello imprenditoriale, a livello industriale, a livello agricolo, che abbiamo delle eccellenze. Tutto ciò che si può fare in accordo con tutto l'intero consiglio lo faremo.